Caro Massimo, tu sei l'artista. Io non lo dico come un secondo me, io lo dico come un dato oggettivo. Sai perché? Perché io ti ho riconosciuto perché tu mi hai riconosciuto. È stato meraviglioso riuscire a lavorare con te. Ti auguro di stare sulla scena ancora per tanti anni, ma soprattutto auguro al pubblico di poterti vedere, di poterti godere, perché tu sei spettacolo. Buonasera dottor Vespa, ciao Massimo, Massimo Internazionale. Io sono qui per rendere omaggio prima di tutto all'artista Massimo Ranieri, ma soprattutto all'amico, al grande uomo che sei e per me esserti amico, volevo dirtelo, è un onore. Una delle canzoni più belle, più rock proprio della tradizione italiana è una tua canzone. Tu, credo, avessi 18 anni quando l'hai scritta, quando l'hai cantata, ed è Se bruciasse la città. Quindi, il nome di questa grande amicizia è il nome della tua grandezza. Io provo ad accennare Se bruciasse la città. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Se bruciasse la città, da te, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore è solo io per te, per te. Buon compleanno, Massimo, Massimo Ranieri. Sei tutto il nostro orgoglio. Auguri. Ciao a tutti.